Una visita scandita dalla fraternità, oltre le ferite e i sospetti reciproci del passato, riconoscendosi nello sguardo di salvezza, di amore e compassione di Cristo. Domenica pomeriggio Papa Francesco si è recato nella chiesa anglicana Old Sands di Roma in occasione del bicentenario della presenza della comunità nell'urbe. Una visita storica, mai alcun pontefice vi era stato, a 50 anni dall'inizio del dialogo ecumenico tra cattolici e anglicani. Un evento vissuto da tutti con gratitudine e gioia e che offrirà un nuovo impulso verso l'unità, come sottolinea il parroco della chiesa anglicana Old Sands, il reverendo Jonathan Bordman. È essenziale per avere un senso della realtà dell'amore di Cristo che noi possiamo trovare. Possiamo parlare dell'amore, ma se non si siede alla stessa tavola per essere insieme, non si può capire bene com'è di essere una famiglia. Noi ancora non abbiamo la possibilità di condividere la Santa Comunione, ma stiamo alla tavola già aspettando. Cattolici e anglicani siamo umilmente grati perché dopo secoli di reciproca diffidenza siamo ora in grado di riconoscere che la feconda grazia di Cristo è all'opera anche negli altri. Ringraziamo il Signore perché tra i cristiani è cresciuto il desiderio di una maggiore vicinanza che si manifesta nel pregare insieme e nella comune testimonianza al Vangelo, soprattutto attraverso varie forme di servizio. L'icona di Cristo Salvatore, benedetta all'inizio della visita, è stata il punto di partenza dell'Omelia del Pontefice perché proprio rivolgendo lo sguardo al Figlio di Dio è possibile diventare umili, decentrarsi, riconoscendosi bisognosi del Signore e mendicanti di misericordia. In Cristo, come fece San Paolo con la comunità di Corinto, si possono superare le divisioni mettendosi in cammino per annunciare la vera gioia. Si deve cercare il dialogo teologico per cercare anche le radici, ma sui sacramenti, tante cose che ancora non siamo d'accordo, no? Ma questo non si può fare in laboratorio. Si deve fare camminando, in via. Noi siamo in cammino. E in cammino facciamo anche queste discussioni. I teologi lo fanno, no? Ma nel frattempo noi ci aiutiamo, noi, uno all'altro, nelle nostre necessità, nella nostra vita, anche spiritualmente, ci aiutiamo, no? Per me il momento in cui questo è stato chiaro è con l'enciclico di Papa Santo Giovanni Paolo II, Utunum Sint. Abbiamo vissuto l'impulso di quell'enciclico da quasi vent'anni e dunque stiamo già in una posizione di dire che non torniamo indietro. Siamo sulla stessa strada. I teologi sono persone di solito totalmente aperti, ma anche seri. Dunque devono confrontare il Vangelo, i testi del Vangelo, la tradizione della Chiesa, anche avere una filosofia che apre cose nuove come quelle cose antiche della nostra tradizione. E come Gesù stesso ha detto, un dotto sempre apre cose nuove, anche cose vecchie. Dunque c'è sempre una nuova apertura, anche e specialmente con i teologi. Rispondendo alle domande di alcuni fedeli, Papa Bergoglio ha annunciato la possibilità di un viaggio nel martoriato Sud Sudan insieme con l'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Un segno che nel servizio agli ultimi e nella promozione della pace l'unità dei cristiani è già in qualche modo visibile. Nel corso della visita infine è stato ufficializzato il gemellaggio tra la parrocchia anglicana Old Sands e quella cattolica di ogni Santi. Abbiamo avuto un gran rapporto, un'amicizia già stabilita con la parrocchia Ogni Santi in via Appia Nuova da dieci anni almeno. Ma non è stato formalizzato in un modo di gemellaggio. Ogni tanto siamo andati noi da loro o loro da noi per una festa particolare, una volta all'anno diciamo. anche abbiamo condiviso progetti almeno con un'offerta di soldi al lavoro che facciamo per i poveri. Ma abbiamo cominciato con questo gemellaggio l'appuntamento fisso venerdì sera di condividere un servizio ai poveri senza tetto alla stazione Ostiense, una cena e di incontrarci spesso per progettare attività comune, di conoscerci meglio, di conoscere le diverse tradizioni che abbiamo sempre rispettando i confini che dobbiamo rispettare, ma di sedici a quella tavola di cosa ho parlato prima, di essere pronto alla tavola, di mangiare il cibo buono del Dio nostro Padre. Grazie a tutti.